Spacciava tranquillamente tra le corsie dell'ospedale. Lui non sarà probabilmente ricordato come autore delle azioni criminose più imponenti del biellese, visto che si tratta di modiche quantità, ma giunto al suo curriculum di precedenti penali, questo ennesimo reato gli è valso 5 anni e 4 mesi di reclusione. Il primo a documentare questa sentenza, emessa nelle scorse ore con dovizia di particolari, ancora una volta il giornale La Stampa, redazione di Biella, firma Zola. Nella decina di giorni in cui era stato in cura nel reparto di pneumologia, ben 35 volte aveva venduto dell'eroina ai suoi clienti abituali, semplicemente cambiando il luogo di consegna. Il gruppetto di tossicodipendenti, che si recavano in ospedale anche più volte la settimana, nei reparti o nell'ampio atrio della struttura di Ponderano, che all'epoca dei fatti non era ancora blindato, prenotavano telefonicamente. Gli episodi imputati a Natale Scarpellino, di 58 anni, erano tanti, ma la quantità delle dosi cedute è veramente minima, in media 0,2 grammi di eroina e in un caso cocaina. Alla fine il Collegio dei Giudici, preseduto da Anna Ferretti, ha deciso, per la modica quantità, ma visti i precedenti, ha applicato l'aumento di pena, previsto per la recidiva. Condannato l'imputato a 5 anni e 4 mesi. Giudizio severo anche nei confronti di Roberto Manuello, 61 anni, difeso dall'avvocato Sergio Gronda, che provvedeva a rifornire Scarpellino di eroina e cocaina, e gli aveva consegnato una decina di grammi della prima e poco più di mezzo della seconda. Per lui un anno e otto mesi. Ricorso in appello per entrambi.